Con un evento a Milano. Che ha visto presenza di. Inter ha presentato la terza camicia per stagione 202.324. La camicia. Con colletto bordi delle maniche nerazzurri. Vede la presenza della Nikkei Swash e Lawrence for Internon, è una novità cromatica assoluta. Dato che Lorani era già stato usato per le terze uniformi delle stagioni 2000-2001, 2001-2002 con. Ronaldo, Vieri e Pirlo tra gli altri. Il colore arancione è un ritorno al passato perché. Oltre alle suddette camice Nikkei del periodo di due anni. 20 milioni e 2002. L Inter ha usato permanentemente quel colore negli anni 50. L'orange è il colore più usato dopo il bianco e nerazzurri in la storia delle camice interne.